Ed ora Alessio Beneventi, che ha visto sfumare i suoi sogni di gloria poco prima dell'ultima prova della 35esima edizione del Rally degli Abeti. Il suo navigatore non è con lui, è valdostano, è tornato in Valle d'Aosta, lo incontreremo senz'altro prossimamente nei nostri spazi. Dopo Alessio Beneventi, nello stesso spazio, avremo un pilota e un navigatore. Si tratta di Nicola Franceschi, in compagnia di Arrigo Brandani. Sono giunti terzi, brillantemente terzi, all'ultima edizione del Rally degli Abeti. Prego. Amici sportivi, eccomi in compagnia di un bel trio. Si allargano le telecamere e in ordine tranquillamente da sinistra verso destra. Alessio Beneventi, Nicola Franceschi e Arrigo Brandani. Ovvero, il ritirato prima dell'ultima prova dell'ultimo Rally degli Abeti e i terzi assoluti sempre dello stesso Rally degli Abeti. Non si fanno applausi, però bene o male anche tu eri d'applauso, dai. Perché bene o male eri in una bella posizione con una macchinina bella pepatella. E poi cos'è successo prima dell'ultima prova? Ho sentito il rumoraccio e purtroppo mi è toccato. Ma era in trasferimento? Si era in trasferimento. Quindi neanche col motore sotto sforzo? No no, ero tranquillissimo, avevo fatto l'anticipo da 20 secondi nemmeno. E queste sono soddisfazioni, si diceva una volta. Ma no, ma guarda. Per modo di dire, ovviamente scherzato. M'ero divertito. La cavolatura è stata da una a mille e diecimila, però... Non più di tanto. No? No. Ma non ti aveva dato qualche sentore prima? No. Un po' di rigidimento o qualcosina? No, no, assolutamente no. No, anche perché di solito la valvola non ne dà, o su o giù. No, ma non mi aveva dato nessun tipo di avvertimento. Quindi la bella fumatina, bemus papam. Buongiorno, salve. Infatti quando ho aperto il cofano ho visto che c'erano esalazioni da recupero. Ma te l'ho sempre detto, ma prima di andare in garra devi fare un saltino, fare sempre la prece e magari... Chi c'ho la minonna, mi levo al malocchio tutte le volte, ma stavolta non funziona. Questo è bello, stavolta invece... Nonna mi sa che devi fare qualche ripetizione. E vediamo invece i due nostri baldi terzi assoluti. Effettivamente vedervi andare in prova con quel bel 1.6, bello rumoroso ma bello tosto, è so soddisfazione. Sì, sì, sicuramente, è una bella soddisfazione. Poi per chi come voi, insomma, era la vostra gara, la vostra gara di casa. Eh, ci teniamo in particolar modo, no? Correre in casa, insomma, con un mezzo del genere ci ha dato parecchia soddisfazione. È una macchina, diciamo, è la seconda volta che ci abbiamo corso. È una macchina abbastanza complicata da portare con un certo passo, a un certo livello. Però, diciamo, ci siamo riusciti in parte. Voi, in gara avevano il 94, non perché fondamentalmente loro erano così indietro. La realtà è che si sono decisi a partecipare al 35esima edizione del rally degli Abetti e dell'Abetone, quando ormai le iscrizioni stavano chiudendo. Erano lì, insomma. Eh, sì, sì, erano praticamente, cioè, erano fatti. Erano chiusi, diciamo, le iscrizioni erano state già inoltrate come l'elenco iscritti. E siamo rimasti, diciamo, fuori anche dalle elenche iscritti. Però, vabbè. E infatti anche noi che abbiamo fatto la diretta della prima prova, ha detto... Era... E questo... E questo... E invece il buon Alessandro Bugelli ha detto, ma no, lo conosco. Lui e Franceschi, eccetera. C'è stato un problemino durante le iscrizioni. Però tranquillamente risolto. Sì, sì. Ne direi bene, perché, insomma... Benissimo. Terzo assoluto, podio, eccetera. Ah, inaspettato sicuramente, perché... Ma, beh, davanti c'avete due R5, per cui... Sì, oltre... Non è possibile fare bene. No, assolutamente. Oltre, penso, non sia stato possibile fare. E, niente, è girato tutto come doveva girare, è girato tutto bene. Abbiamo avuto fortuna. Eh, vabbè, ci vuole anche un pizzichino di quella. Certo, certo. Poi di solito si dice, prepariamo per bene la gara, con calma, nei tempi giusti. E invece, poi, le cose improvvisate all'ultimo salto sono quelle che vengono meglio. Sentite un po', ma quella spruzzatina di acqua che c'è stata nel primo pomeriggio di domenica ha rimescolato le carte e vi ha dato un po' fastidio oppure no? No, io sinceramente facevo la danza dal lunedì prima. Ah, sì? Perché la pioggia mi è sempre piaciuta, perlomeno i fondi bagnati mi sono sempre piaciuti rispetto a quelli asciutti. Però non è che correre sull'asciutto non mi piace, anzi, è più sicuro e più tranquillo. Però se pioveva era meglio. E per voi invece? Anche perché per l'automobile lì, sull'umidizio, sull'umido, sul viscilo, visto che bisogna girare parecchi agli alti. E poi, avendo due ruote motrici, sinceramente ci ha un pochino dato fastidio, ecco. Però è andato bene ovunque. Sulla prova del melo siamo partiti con gomme d'asciutto e senza averle ne intagliate niente. Il primo tratto, i primi chilometri su fino al melo, era, pioveva, pioveva forte. E quindi siamo stati un po' penalizzati. Però va bene, risultato poi. Una caratteristica della tua vettura che ti piace molto e una che invece ti piace molto meno. Allora, rottura a parte. No, vabbè, il 106 è una macchina, secondo me, semplice da guidare a livello anche proprio di guida vera. Ma nel senso devi anticipare molto? Sì. Devi buttarla dentro tanto il muso e gira sempre? Sì, perché il posteriore va molto in appoggio e è divertente. È una macchina che sono... Ha l'idea di essere una macchina molto leggera, molto facile. Sì, è leggerissima. 940 kg. Niente, praticamente. Per 200 cavalli, insomma, è tanta roba. È divertente da guidare, o perlomeno per come mi piace a me. Poi se devo paragonare a una Twingo, che ci faccio il trofeo quest'anno e tutto, chiaramente non... È un'altra parrocchia. Sì, purtroppo sì. Boh. E per voi invece il vostro Super 1600? Il nostro Super 1600, avendoci corso praticamente pochissimo, la cosa più difficile è l'occhio e l'ingombro. È parecchio larga e sicché è un po' penalizzante. Tu pensa invece che io... Mi ero fatto l'idea che invece sul misto, sul misto veloce, è una bella macchina. È un assetto esagerato. È una bellissima macchina. Ha un assetto esagerato. Va guidato molto pulita. Bisogna impostarle le curve. Però una volta uno che decide è entrato, bisogna entrare decisi e tenere in fondo. E esce molto velocemente. E poi c'è questa bellezza di questo rumore. È fantastico, perché si gira in genere da 9.000 a 9.300, ecco. E si dà soddisfazione. Veramente. Difficoltà invece per chi naviga? No. Beh, c'è da dare note un attimino più veloce del solito. Quello è normale, quindi? Non ci si incespica? Non ci si incespica, non c'è tempo di incespicarsi. Eh, meno male. Puoi fare. Sentite, mi dicevate prima una cosa che mi ha lasciato un po', diciamo così, esterefato. Perché fondamentalmente mi avete raccontato che dalle vostre parti, visto che sulle prove speciali c'era pieno di pubblico, anche abbastanza giudizioso, non si spostava da una parte all'altra il percorso, però mi avete raccontato che invece c'è della gente che, diciamo così, marcia contro questa gara, perché amano tutto il calcio, mentre invece il calcio c'è tutte le domeniche. In realtà si fa una domenica all'anno, cioè un 52esimo, lo vogliamo lasciare a chi ha questa benedetta passione dei motori, della velocità? Cioè, non bisogna danneggiare la popolazione, però se succede una volta su 52 weekend, scusate, non si dice neanche pazienza, si dice solo di, visto che i rally portano beneficio anche al territorio. Sicuramente. Eh, ma si può sempre volere solo il calcio o altre cose. No, no. Lui c'è il pistone, c'è anche il basket, che è molto forte. Se poi uno pensa che perlomeno per tre giorni alla montagna a Cristoese porta qualche dindo, perché abbergatori, barristi, commercianti, insomma, tutti commercianti. Io ho visto, sono stato su due giorni, ho visto visi solidenti. Questo vuol dire che quando vedi gli esercenti che sono contenti, perché si faceva la fila per mangiare, si faceva la fila per andare a bere qualcosa, eccetera, eccetera. E' possibile che c'è sempre questa calca di persone che vota sempre contro e che non gli va mai bene nulla. Ma però... La montagna a Cristoese è terra di campioni, d'annesti, d'anti, per cui ci dovrebbe essere una tradizione, insomma... Mi ha fatto molto piacere, mentre si passa da Bardarone, vedere il paese che ha dato i Natali a Mauro Nesti. Incredibile, una cosa eccezionale per cui... E invece purtroppo c'è sempre questo... Questo astio. Questo astio, questo voler... E perché fanno rumore, perché ti chiudono la strada. Esatto. E poi magari sono gli stessi che se non fai gli eventi ti dicono, ah ma qua non succede mai nulla. Ah qui, insomma, gli eterni scontenti. Esatto, sì, purtroppo. E accontentare tutti comunque in ogni anno non è mai facile. Ho capito, però abbiamo, l'ho già detto prima, un 52esimo, cioè un weekend su 52. Ah lo so. Togli Natale, Pasqua, Ferragosto, per cui già su 49... Eh, non ci vuole granché, no? O meglio. E poi, insomma, a fine dei conti, è anche un discorso leggendario. 35 anni di rally non è poco, eh. No, no, complimenti, complimenti a chi organizza questo evento, perché dopo 35 anni, essere sempre insieme, che sono sempre poi loro, i soliti, da 35 anni a questa parte, gli va fatto proprio veramente un complimento, perché... E poi si sono sempre andati a migliorare, eh. Sono sempre andati avanti, cercando di fare cose nuove, e rimettersi in campo, un gioco, insomma. Ringrazio i miei tre ospiti, Alessio Beneventi, chi devi ringraziare? No, ci tenevo a ringraziare Marco Scaramuzza, il ragazzo che corre con me, che purtroppo non è potuto venire, perché è di Aosta, e che crede sia la parte fondamentale che sta in macchina, perché è veramente bravo. Non è che Aosta sia dietro l'angolo, effettivamente, eh. No, infatti l'impegno ci sta mettendo, dove stanno lui, per fare tutto quello che si sta facendo. Lo ricordo, l'hai ringraziato anche nell'intervista a Valdinievale. Me lo ricordo. Bene. E invece voi due? Ma noi due, sicuramente tutti i ragazzi, tutti gli amici che ci hanno dato una mano, e ci hanno dato la possibilità di essere, di partecipare, insomma, a Rally e Labeti. A RS Sport, che sono stati, ci hanno messo a disposizione un mezzo fantastico, e babba e mamma. Credevo di cesserò l'Inps. No, no, no. Invece no. In qualche anno. No, perché se no mi vengono a cuccare subito, mi fanno le trattenute immediate. No, no, no. E comunque, io ci tengo a fargli complimenti a tutti e due, perché, vabbè, è una cosa che era già nata da qualche giorno prima, e un po' ci si freventa, ma sono stato veramente contento, perché meritano. Un grazie anche a Alessio, perché abbiamo ringraziato gli amici. No, 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 adesso non cominciate a ringraziarvi. No, 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 è vero. Ma in realtà è che siete un bel gruppo, siete belli coesi. Ed è la cosa che, i rally una volta erano anche così. Da noi, sì. Con fraternità, divertimento, era tutto. Ci si aiutavano con l'altro. Sì, sì. Ma anche da noi, così con Alessio. Anche se si vodesse in classe, insieme, sicuramente dal momento che scatta il semaforo, il verde, ognuno fa la sua gara, quello è ovvio. Però dopo amici, più di prima. Usando un eufemismo molto in voga anni fa nella televisione, Big Ben ha detto stop, quindi noi ringraziamo, ripetisco, Alessio Beneventi, Nicola Franceschi e Arrigo Brandani. E grazie a voi per la vostra attenzione.